Ehi grandissima leggenda, sono contenta di essere di nuovo qui con te, felicissima di chiamarti leggenda digitale perché ci stiamo addentrando nei contenuti bonus e quindi abbiamo terminato le nostre lezioni principali. Quindi se sei qui e sei rimasto fino a questo momento vuol dire che ti meriti un regalo stupendo. Questi tre bonus ti dimostrerò come è facile gestire Instagram quando hai un blocco. Ti spiego, voglio dimostrarti come con questa applicazione la ricerca degli hashtag può essere molto molto semplificata a seconda del business che tu hai e vuoi portare avanti. Allora, ti spiego, quest'app è facilissima, tu la scarichi, è gratuita e a seconda dell'argomento che tratti puoi scegliere gli hashtag. Quindi è davvero una svolta per chi magari ha poco tempo per fare la ricerca manuale come ti ho spiegato magari nelle prime video lezioni. Quindi la prima cosa che voglio dirti è magari all'inizio inizia con questi ma poi cerca di creare dei tuoi hashtag personali perché quando inizierai ad avere dei follower magari inizieranno a identificarsi con la parola che tu hai inventato. Nel mio caso uso spesso per identificare tutti voi magari studenti uso la parola e l'hashtag leggende digitali perché mi piace pensare come una volta ho sentito in tv ma anche una dicitura dei fumetti perché le leggende sono quelle persone che sbagliano e errore dopo errore diventano eroi. Quindi nel mio caso voglio che tu diventi una leggenda di Instagram e sono qui per far sì che questo succeda. Quindi spero di esserti stata davvero d'aiuto, adesso ti faccio vedere al volo come funziona quest'app. Se tu magari ti occupi di salute puoi cliccare su salute e cercare se ti occupi di fitness oppure se sei un dietologo o se magari ti occupi di yoga puoi scegliere gli hashtag che vuoi. Ovviamente sono 30, sono sempre 30 hashtag perché al massimo gli hashtag che possiamo mettere sotto una foto sono 30. Io però ti consiglio di scegliere dalle 10 alle 15 perché altrimenti l'algoritmo di Instagram ti penalizza un pochino, anziché aiutarti ti penalizza. Quindi cercherei di evitare questo metodo. Però spero di esserti stata d'aiuto con questa fantastica app che in momenti proprio di assenza di creatività, quantomeno all'inizio, mi è stata di grande supporto. Quindi con questo è tutto, con il primo bonus abbiamo concluso e voglio parlarti degli altri bonus e andremo a vedere altre applicazioni di supporto per Instagram in cui sono sicura ti destreggerai più che bene. Quindi con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.